Sisma S.P.A., un'eccellenza del nostro territorio, tra le aziende leader del proprio settore, è una presenza immancabile all'interno di Vicenza Oro Genuari, importantissima vetrina per gli addetti ai lavori. Noi abbiamo tre settori di business, macchine da catena, sistemi laser di marcatura, saldatura, incisione e stampanti 3D metallo. Produciamo oltre 150 modelli di macchine da catena che rispondono alle varie esigenze di mercato, quindi dalla bigiotteria al lusso. Tanti i prodotti già presenti nella proposta dell'azienda, la quale in questa immancabile occasione internazionale presenta i nuovi upgrade software che impreziosiscono i macchinari di nuove funzionalità, ampliandone le performance. Le novità di quest'anno sono un sistema di saldatura elettrica, che quindi risparmia energia e presenta inoltre nuove attrezzature che permettono la realizzazione di una variante della catena veneziana e la catena tripla, che ha molto appello in questo momento al settore della moda. Sismo SPI inoltre si distingue per essere il produttore di SGX, macchina da catena tra le più grandi al mondo, che consente di lavorare fili metallici fino a 8 mm di diametro. La saldatura laser, altro fiore all'occhiello dell'azienda, viene proposta in fiera con l'esposizione del saldatore manuale da banco LMD 180 ReadyLink, ergonomico e meno stanchevole per l'operatore, ottima alternativa al microscopio. Per saldature estetiche più complesse, adatte all'alta gioielleria e orologeria, Sismo SPI propone il più sofisticato BSP Galvo, caratterizzato da una testa di saldatura galvanometrica. Per quanto piacere la marcatura, presentiamo il logo, che è una macchina di marcatura basica, molto adatta per piccoli atelier. Poi andiamo al BSP, che è invece un sistema di marcatura e incisione ad alto contenuto estetico. Altro orgoglio è la stampante 3D MySyn 100 per la realizzazione di oggetti in 3D metallo e consente la realizzazione di qualsiasi tipo di geometria.